In questo senso credo che il Sevilla sia una squadra molto completa, sa alternare molto le fasi di gioco, sa di prendere passo con grande una decisione difensiva, sa attaccare alto, sa giocare nelle ripartenze all'italiano, sa capire i momenti delle partite, ha esperienza internazionale, insomma anche come società sono tanti anni che arrivano tra la semifinale e la finale, quindi è una partita bella da preparare per quanto mi riguarda.